Eccoci qua di nuovo, buon pomeriggio, abbiamo questo pomeriggio un ospite veramente eccezionale. Sono veramente molto, molto, molto emozionato perché sta per arrivare la mia maestra Sally Palinger. Con Sally ho studiato per ben 15 anni con la sua guida, Chong Fu, di cui lei ci parlerà e Sally è una donna straordinaria. Quindi parleremo con lei, lei ci darà tante informazioni, poi si andrà in trance e diventerà Chong Fu. Per cui sono molto, molto contento ed onorato e con il mio grande piacere di presentarvi ancora, di nuovo, Sally Palinger. Ecco, hello Sally, how are you? Hello, hi Gisendo, happy to be here. Hello. Hello, my dear, how are you? Very well, thank you. Great, great, great. I'm so glad that you made, you could make it again here on Bridges of Light because a lot of people have been waiting to see you, to meet you for the first time because in these past two years our members have increased for a, you know, a very big deal of number. So, ho detto, sono molto felice che Sally è qui, anche perché non tutti la conoscete. Sally è stata con noi già due anni fa, ma il nostro gruppo è molto cresciuto in questi ultimi due anni, per cui adesso sono molto contento di averla qui con noi. How are you Sally and how have you been doing? You know, we have not seen each other for a very long time. Just tell us a little bit about how do you spend your day really, apart from working every time. I spend my day a lot with Chang Fu, so my day is often Chang Fu's day, but I love that. I'm so lucky to have such a wonderful guide. I feel very blessed in my life. I always feel very blessed. And do you want me to stop in between sentences? Yeah, because I need to translate otherwise, you know, it would be complicated to, as I told you, I'm getting old and I keep forgetting things. So, you know, it's better that. Allora, lei ha detto che la sua giornata è riempita esclusivamente da Chang Fu. Lei è sempre Chang Fu. Più tardi ve la mostreremo. Ma lei prima mi ha detto una cosa molto bella che amerete, penso a Sofia, oppure penso a Manuela, a tutte quelle persone che io conosco che amano l'Egitto. Yes, I was just telling them, I was giving them a little hint about, you know, the Egyptian goddess that you also channel. But, you know, just let's go forward and then we will speak about it a little bit more. So, you speak and you work with Chang Fu mainly and you give guidance to people, you see people one-to-one, right? Yes, but actually, often what we say is that I'm a medium here on Earth and Chang Fu is a medium on his level. So, often we have star beings and deities and angels who he brings in. And so, I don't know how it came about, but Isis came in in 2014 and now every day when I come into the temple, when I change my consciousness into channeling, she comes in, she blesses the temple, she blesses whoever's there and I'm also very, very blessed and grateful to be working with goddess Isis. She calls himself Isa Isa with us. Yes, yes. Allora, lei ha detto, ha svelato, per coloro che parlano già l'inglese, ha svelato già chi è questa dea che lei canalizza. Allora, ha detto che da quando lavora con Chang Fu, che è dall'inizio della sua, di quando lei va in trance, oramai, how many years have you been working with Chang Fu? Since 1978. So, work that out. Dal 1978 lei lavora con Chang Fu e solo dal 2014 Chang Fu ha portato insieme a lui delle divinità, delle divinità, degli angeli, degli arcangeli e poi, ascoltate bene, perché questa è veramente una cosa meravigliosa, e poi porta con sé la dea egiziana Isis, Iside, ok? Iside è, la sentirete dopo, attraverso Sally, ma non solo, Iside ha deciso di chiamarsi Isa Isa, per cui, prima della nostra pre-intervista, lei mi ha detto che Iside arriva con un sibilo e la sentirete, alcuni di voi sentiranno proprio questa vibrazione di Iside, Isis, e poi appunto sentirete proprio come Iside si trasforma e diventa Chang Fu. So, Sally, I was telling them about how you came about in 2014 with Issa Issa, 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 and that Chang Fu would bring down all other helpers, like angels and guides, and also this amazing Egyptian goddess, right? Yes, we're very, very blessed, and he often does that in our live call, when we have our call every month, and he brings in star beings, he brings Pleiadians and Arcturians and Venusians and Andromedans, so we have this wonderful perspective of Earth life from the star beings and then the angelic beings, so we're very, very blessed in that way, yeah. Dice che sono molto fortunati e benedetti in questo perché Chang Fu porta anche i Venusiani, cioè coloro che appartengono a Venere, piuttosto che altre divinità che arrivano da altre stelle, quindi è una combinazione di molte divinità, di spiriti guida, di maestri ascesi che Sally o di più Chang Fu riesce a canalizzare e a portare appunto nella coscienza terrena attraverso Sally. And the other thing that's, well, it's been happening, as you said, as we said, Gaetano, Covid made us go online and find things out that we didn't know before, ways we could work. And I have started a class now about to complete, three years, three years long, amazing people who are learning themselves to channel to Oracle. So I run a teaching class for priestesses and priests of Godess to Oracle Godess, and that's been so exciting and wonderful. Sì, dice che attraverso il Covid, abbiamo detto anche prima che attraverso il Covid noi abbiamo scoperto come lavorare online e quindi lei che dice che oramai insegna molto online e ha organizzato un corso di tre anni di canalizzazioni e di, dobbiamo dire anche che Sally è la sacerdotessa di Avalon. Avalon è il posto dove lei vive, Glastonbury, che spero un giorno voi possiate visitare e Sally c'è un gruppo di sacerdotesse, noi abbiamo avuto quando siamo stati a Glastonbury con questo gruppo che ho organizzato, c'era Maria Maffucci che ho visto che è presente oggi, abbiamo avuto un'iniziazione all'energia delle Godess ed è stata una cosa meravigliosa. e quindi Sally è una delle Godess e lei ha detto che fa proprio un corso di tre anni proprio per diventare una sacerdotessa di Avalon. But priestess can become also like also male in this... Yeah, and priest, priestess and priestess, yes, both male and female, yeah. Quindi sacerdotesse e sacerdoti di Avalon che hanno questa energia sciamanica molto forte e quindi Sally è assolutamente a capo, è a capo di tutto questo. So you are the priestess, right? We are a group of about five that have been working a long time in the Goddess temple in Avalon, yeah. You know, I am one of the oracles here and there are about three or four more. So the other thing that I've been doing, which Jerome really put so much energy into during COVID, is Chongfu, we created, Jerome created this channel that we're on here, the Chongfu channel and Chongfu brought a teaching in every day for a whole year and so there are a lot of free meditations on YouTube for people to enjoy and to be lifted up by. Do we have a chance to say hello to Jerome as well? Can he pop in? Jerome is right here. Jerome and I are running, doing a wonderful masterclass on Wednesday the shungite, the black gold, powerful, powerful shungite crystal, which Jerome... We have Manuela Torriani che si occupa di cristalli, lui è Jerome, Jerome è il figlio di Sally, guardate che bel giovanotto, look how cute he is. Hello Jerome. Hello. Jerome e Sally lavorano insieme, ovviamente sono madre e figlia. Show us this amazing shungite. Jerome lavora con la shungite e ha creato un canale proprio dove si occupa di shungite. Shungite è essere il, mi diceva prima Sally, la shungite è l'oro nero di questa epoca ed è assolutamente un cristallo molto potente proprio per questi tempi. I was saying that shungite is the most amazing, powerful crystal for these times, right? Yes, yeah. I would say shungite has probably the biggest power waiting for you. Dice che la shungite ha il più grande potere che noi stiamo aspettando. So we put on every chakra. I've got mine too, you see, I've got this, the pyramid. Anche io la shungite è questa pietra grezza e la piramide. That's good. And we put on every chakra, which I call mono crystal healing. All one type. Lui mette lo stesso cristallo su ogni chakra e lo chiama, how do you call it? Mono? Mono. So one kind of crystal. Ok, ok. Dice monolo for each chakra. For all the chakras. Yes. Lui lo mette su qualsiasi chakra, su tutti i chakra, per allineare i chakra a questa energia di shungite. La shungite è una pietra molto potente che purifica, riprotegge, it's a purifier, it's a protector, right? It's a purifier, 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 it's a purifier. Yeah, and you know, in business we're all working with devices and laptops and it's very good crystal for protecting you against these kind of frequencies that emanate from the laptops and devices. Dice che questo cristallo è così potente che assolutamente vi protegge da tutti i macchinari che usate, il computer, il telefono, tutto ciò che avete in casa, la televisione. Quindi vi crea uno schermo protettivo assolutamente per tutto questo. I call this the black gold, because the energy that this has, you know, everybody loves gold, but they don't really know why. Yeah. Whereas this stone, it has energy in it that is, for me, more precious than gold. So you say the black gold, like in gold, or the black gold? The black gold, like the precious metal gold. Okay. The black gold is like to say there's energy in here. This one, yeah. Yeah, there's energy in here that can assist us in our evolution. Yeah. You know, in questa pietra c'è un'energia che ci aiuta per tutta la nostra evoluzione. Thank you so much. Thank you so much, Jerome. Yeah. Okay. Well, you know, work with it. And yeah. Do tell me a little bit about, first of all, Sally was suggesting that you have a circle called what? A YouTube channel? Chongfu channel. Yeah. Yeah. Chongfu channel. And that channel is, you know, that we did a session with Chongfu every day for a whole year during the COVID, you know, when it was very bad and everybody was wanting to know what was going on. And Chongfu brought all of our, he brought his energy to lift people up because people were in terror. People were, you know, hiding and isolating and locked down and everyone was really confused. So Chongfu brought a lot of light to people during that time. Yeah. Tell them absolutely. We have put the Chongfu channel here, highlighting so people can have a look at it and can join later. But now we really wanted to, thank you, Jerome. Thank you so much. I really would like to talk with your amazing Chongfu. Yes. You're really, you're really advised if you can, when you're here at Gaetano to sample Jerome's incredible work. Really, really wonderful. Yeah. I think I've tried it already because he gave me the most amazing massage one with the Shunjai. So, yes. Well, there we go. And then, obviously, when I'm going to take some group over next year, then perhaps we can organize that. L'anno prossimo porterò un gruppo di persone in viaggio con Maria Mafucci e Sofia Moran a Glastonbury. E quindi potremo provare proprio dei trattamenti con la Shunjita di Jerome, ovviamente, oltre ad avere un'audience privata con Chongfu e con Sally. So, yes, I've told the people that we are going to have that. Therefore, now we are just all waiting for you to become Chongfu. Yeah. So, as you know, I had a friend who said to me, you know, he didn't understand that I go into trance and a being comes in and he thought I was pretending to be the being. So, I just want people to understand I'm still Sally. Yeah, yeah. I'm going to leave my body now and the first thing that's going to happen is actually that Isis or Issa Issa, she calls herself, will come in and she will, as I said to Gaetano, sometimes we also have had Mother Mary coming in and other, you know, Mary Magdalene, we've had Carly, we've had Kwan Yin. So, but I know, I'm pretty sure today that Issa Issa will come in. And then there's a bit of silence, you know, she leaves and you have to be patient, you have to breathe, meditate, be in your own beautiful space and just be patient. And when Isis comes in, she will give a blessing to all of us? She will speak in her star language first and then usually she sings a little bit. I sing to go out, she sings to come in and then she gives a blessing in her language and then she, I can feel her kind of dropping into my brain, you know, at first it's very expansive and very, you know, other world. And I can feel her in completely another dimension and she gradually comes in and takes over my mind and then she speaks in English. Now, Sally, I need to translate this five minutes of talk that you've just given. All right. Allora, Sally ha detto che lei adesso, dice che lei non è che è Sally e poi diventa Chung Fu, ovviamente è Sally che va in trance e questa meravigliosa energia entra nella suo corpo e lo vedrete proprio trasformare, io ho assistito a questo tantissime volte. Ma non solo questo, adesso lei prima di comincia a fare le menta di questi suoni e a cantare e poi arriva la dea Iside, la dea Iside ci darà una benedizione, ci farà delle benedizioni e poi Iside a sua volta parlerà in antico egiziano che nessuno capisce e poi lei diventerà Iside e Iside. Grazie a tutti. 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 Sì. 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 no 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 my beautiful children i am here i am here vedo qui con voi vedo tutti voi i miei amati sono dentro tutti di voi tutti voi il potere della vita within you i am like the sun that rises every day con voi sono come il sole che sorge tutti i giorni i am the breath within your being sono come il respiro di tutti voi i breathe within you from the source of creation respiro con voi dalla sorgente della creazione remember my children that you are one with me ricordate figli miei voi siete uno con me ricordate che siete fatti della mia luce ricordate che siete fatti della mia luce voi siete tutti i colori dell'arcobaleno miei figli vedo la vostra bellezza e sento il vostro amore sappiate che io adesso sono molto più vicina al vostro mondo perché io adesso porto a voi la mia nuova creazione miei amati guardate intorno a voi e voi vedete tanto dolore e tanta sofferenza il mio cuore piange per tutta la sofferenza che succede in questo momento sulla terra sentite la mia compassione che vi attraversa io ascolto le vostre preghiere e voi che portate il mio nome in alto porto protezione pace e amore amici cari figli miei io sono qui ogni giorno e parlo attraverso tanti figli che mi canalizzano vedo molti di voi che si ricordano di me e ricordandovi di me vi ricordate anche la sorgente da cui provenite e dentro di voi il vostro cuore si rafforza amati figli abbiate fede aprite il vostro cuore e fidatevi di me amati figli tutto ciò che è arriva dalla sorgente di cui io faccio parte io vi benedico vi benedico miei amati figli in questo giorno e nei giorni a venire chiamatemi sentitemi io sono qui sempre chiamatemi sentitemi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutti voi sulla Terra in questo momento state attraversando un tempo di grande trasformazione e di questo io ho preparato i miei studenti per moltissimi anni Questo è un tempo significativo sulla vostra terra Un tempo su cui tutti quanti abbiamo deciso di arrivare sulla terra per sperimentarlo Un tempo di trasformazione, iniziazione e cambiamenti E quindi mentre io sto entrando qui sulla terra per voi dobbiamo ringraziare tutti gli spiriti che sono intorno a noi Adesso lei, lui ci elencherà gli spiriti e io vi farò la traduzione Uniamoci tutti insieme per ringraziare le presenze degli spiriti divini che sono intorno a noi adesso Noi diamo il benvenuto a centinaia di guide e aiutanti Tutti gli abitanti nel mondo spirituali che facevano parte in un tempo dei vostri parenti e dei vostri avi Noi diamo il benvenuto a tutti i maestri ascesi che una volta erano sulla terra che hanno deciso di non reincarnarsi più e vivono in quella dimensione Portando dentro di noi amore e saggezza E la luce del divino e della coscienza cristica illumina adesso tutti noi e gli abitanti della terra E l'energia del sole cosmico e della centrale del sole cosmico arriva attraverso di noi, su di noi E noi ringraziamo tutti coloro, tutte le energie che sono in questo Tempio della Luce Diamo ringraziamenti all'opportunità di avere un corpo fisico sulla terra Una benedizione per la nostra evoluzione dell'anima E tutti coloro che sono presenti qui oggi sono qui per evolvere la loro anima E quindi diamo il benvenuto e ringraziamenti agli spiriti elementali di cui tutti voi fate parte Ringraziamo gli spiriti elementali della terra, dell'acqua, del fuoco, dell'etere e di tutti gli spiriti elementali che ci sono adesso qui presenti Ringraziamo tutti gli alleati di tutte le frequenze angeliche, di tutte le frequenze energetiche che sono qui adesso, oggi E onoriamo gli spiriti degli animali Degli uccelli e degli insetti Gli esseri dell'acqua E l'energia dei serpenti e di tutte quelle creature che vivono sotto terra E ringraziamo loro per il potere e l'energia che ci danno a ognuno di noi Diamo ringraziamenti alla grande madre terra Agli alberi, alle piante, ai fiori, alle persone che vivono in questa energia, in questo mondo energetico Che ci portano cibo, medicina, nutrimenti, minerali Noi diamo il benvenuto alle pietre, ai cristalli, a tutto ciò che è I cristalli e le pietre preziose, le gemme che ci portano bellezza e energia La grande libreria della terra è come una grande biblioteca di conoscenza Tutto è conservato nella pancia della terra Ed è stato portato qui dai registri akashici E mentre voi chiamate queste energie Sono portate a voi nel vostro libro della vita Tutto ciò che voi avete sperimentato nella vita Avete conosciuto Potete richiamare tutto ciò a voi Noi diamo il benvenuto agli angeli, agli arcangeli Agli intergalattici, agli extraterrestri E a tutti coloro che arrivano dallo spazio E tutti quegli elementi eterici come gli ignomi, le fate del bosco Tutte quelle fatine che troviamo nell'etere della terra Portiamo qui tutti gli esseri di luce che sono qui in riunione con noi E diamo ringraziamenti per la luce eterna che ci protegge Amore e benedizioni Amore e benedizioni Peace and grace and beauty Grazia, bellezza e gratitudine Potere Potere Della grande presenza divina che è dentro ognuno di noi Blessings and peace to you all Benedizioni e pace a voi tutti Thank you, Chongfu Grazie, Chongfu Grazie per essere qui con noi questo pomeriggio Thank you for having been with us, for being with us this afternoon I hope that my audience will have some questions for you Spero che voi abbiate delle domande per Chongfu Che non siano domande personali ma che siano domande a carattere generale I have a question for you Io ho una domanda per te I would like to know What do you think about all these extraterrestrial beings That are shown now on the earth like never before Voglio chiedere a Chongfu Che cosa pensa di questo fenomeno Di extraterrestri e UFO Che sono oggi sulla terra What kind of beings did you call them? Extraterrestri La terra in questo momento è un grande centro di conflitto tra la luce e l'ombra Ma la luce ha già vinto nel piano terreno interno Ma sulla terra ci sono ancora individui che sono presi dalla forza del male E per questo ci sono degli extraterrestri che stanno portando luce in questo periodo di buio sulla terra E noi abbiamo già degli operatori di luce che arrivano da altre galassie che lavorano per voi Per portare luce e amore e guarigione a tutte le persone che vivono sulla terra E quindi questo è un tempo molto difficile per il corpo emozionale e per il corpo emotivo Questa cosa l'abbiamo detta anche stamattina con Celia Fan uguale l'ha detta lei E questo noi dobbiamo assolutamente essere in grado di poterci radicare alla terra E vivere nell'amore piuttosto che uscire fuori dal corpo e andare nel mondo E questi sono dei tempi difficili per coloro che lavorano con la luce Per i guaritori e per i veggenti E quindi sappiamo che noi stiamo in prima fila a lavorare con il divino E con tutti coloro che vivono nella luce E perciò noi diciamo che questo è un tempo di iniziazione Alcune persone usano il termine ascensione ma io uso il termine iniziazione e trasformazione Perché per Cheng Fu tutti i maestri ascesi stanno per risorgere sulla terra Ci sono qualcuno che dice che noi trascenderemo tutto ciò Ma io dico che noi abbiamo bisogno di vivere sulla terra Nel nostro corpo sulla terra Perché ci sono persone che vengono prese dalla paura E quindi fuggono da tutta la luce Quindi c'è bisogno di portare luce nei cori delle persone Per cui se voi siete qui sulla terra Io so che voi siete determinati a rimanere su questa terra E che voi state cercando delle risposte molto profonde nel vostro essere E sono sicuro che molti di voi hanno avuto il loro Hold on, let me translate Hanno avuto le loro sofferenze durante questi anni E sebbene molti di noi sono dei guaritori e vivono nella luce Ma siamo stati in contatto invece con tante persone Che si sono assolutamente dimenticate di stare nella luce E si hanno occupato per il buio Per cui c'è bisogno di tanta protezione e di tanta forza Per vivere sulla terra in questo momento But it is for this that you have come I'm sorry? It is for this purpose that all beings here on earth at this time They have come for this initiation, for this purpose Ma ecco perché tutti questi esseri di luce sono arrivati sulla terra adesso Proprio per questa grande iniziazione For there is indeed a great and divine plan Perché c'è un grandissimo piano divino Quando parla di questi esseri di luce risponde alla mia domanda precedente Che ti parlavamo degli extraterrestri Che lei dice sono esseri di luce che sono arrivati per portarci la luce E aiutarci in questo momento And that is your purpose It is to hold your power To clear your field and be the channels of the Christ's light at this time I've got lost, please tell me again It is your purpose to clear yourselves To be the channels of the Christ's light The creation light at this time Quindi è nostra necessità e possibilità di ripulire Di ripulire il nostro essere interiore Per affrontare questa trasformazione E questa trasmutazione d'energia And you can do this working in a shop Or a hairdresser Or being a mother Or grandmother Father Or grandfather You can do this as a child You can do it in all walks of life E potete fare a vedere questa trasformazione Ma come diceva anche Celia Fenn questa mattina In qualsiasi momento della vostra vita Se siete al supermercato Se siete dal parrucchiere Se siete una madre che accudisce i figli Se siete a scuola Potete ripulire il vostro essere In tre possibilità Come dicevamo stamattina Perché questo è il tempo della creazione della nuova terra E questa è la nuova terra che nasce dall'anima della nuova terra Che arriva creata da questi nuovi esseri Hold on one minute please I want to tell something to my audience Mi piacerebbe che voi non scriveste delle cose Uno risponde a quell'altro che sta rispondendo Perché io mi confondo Devo tradurre lei che mi parla In un'antica voce E mi confondo con queste persone che mi scrivono Allora la Mauriello entra e dice Chi è questa signora? È una signora È una medium Sally Palinger È una medium che arriva dall'Inghilterra Ed è in trance Per cui se qualcuno può rispondere Bene Altrimenti continuiamo Poi potete seguire la diretta Dopo che abbiamo terminato Questa bella giornata Questa bella diretta insieme È importante che tutte le persone che sono un po' deboli Rispetto a questa iniziativa A queste iniziazioni Diventino in qualche modo più forti Affinché possono superare E sentire la terra L'energia che arriva da questi spiriti Dentro di loro Perché questa cosa non è successa solo adesso Ma siamo in un ritmo della vita Dove queste cose sono successe già in passato E quindi abbiamo già superato Delle trasformazioni in questo genere E quindi anche adesso Stiamo superando questa cosa In questo ritmo Nella cui Dove si trova la terra adesso Per cui potete anche immaginare Coloro che parlano Dicono la verità Sono stati bloccati Dalle autorità governative E quindi ci vuole molto coraggio Per gli operatori di luce Di rimanere forti Decisi nel loro sentire E parlarne ad alta voce Anche pur sapendo che purtroppo I governi ci bloccheranno ancora E ci sono ovviamente anche tantissima corruzione E' un altro termine che non mi ricordo Nelle strutture religiose Inquinamento Corruzione e inquinamento In molte tradizioni religiose E strutture religiose E quindi noi parliamo soprattutto A coloro che Quegli insegnanti Che parlano direttamente Con il divino Che vivono senza passare per istituzioni religiose Che sono indipendenti E che vivono e predicano Nella loro luce divina Alle persone Che non possono essere Corrotti Da istituzioni O da percorsi religiosi Ma che hanno lavorato Sulla bellezza Della loro anima E della loro evoluzione Per cui noi ringraziamo A molti di voi Che siete queste persone Voi avete bisogno Di fare sentire La vostra luce Le vostre benedizioni Nel vostro mondo Perché sapete che la verità Ha un istinto Nel vostro cuore Ed è il dono Dell'amore Della compassione Della condivisione E della verità E so che alcuni di voi Penseranno Che la terra Non può essere Assolutamente Governata Dalla pace Dalla luce E dall'amore Ma pensate invece Positivo Perché così sarà Perché è come se voi Aveste già accettato Che la terra Non è un pianeta sicuro Whereas the earth Is the jewel In the heart Of the divine E invece la terra È il gioiello Nel cuore del divino E la razza umana È una delle razze Più evolute Nel cosmo Nel fisico E questo è il momento Di portare La divinità Nel nostro Piano fisico E questo però Bisogna assolutamente Incontrare Ma trascendere La paura E così se voi sapete Che la paura È prodotta Dalle cose intorno a voi Dalla televisione Dalla radio Ed è infusa Dentro di voi Costantemente E così Sono sicura Che alcune Delle vostre domande Sono state Saranno dettate Da questi temi Della paura Che sono Intrinsechi Dentro di voi Perché Inner freedom And spiritual Connection To the divine Is yours By right Perché Nella libertà La libertà divina È vostra Di diritto And so I am delighted To answer Any questions That can help Each and every One of you To free yourself From fear And from negative Emotions Per cui sono qui Ad rispondere Alle vostre domande Che in qualche modo Vi aiutano A liberarvi Dalla paura E a liberare Appunto Le vostre Emozioni Perché Nella vostra Verra natura Ognuno di voi È un canale Per il divino E siete qui Per esprimere La bellezza Di Cristo Nella manifestazione Qui sulla terra So let me hear Any questions You wish to ask Dear ones Ok So sediamo Prendo qualche domanda Che avete chiesto Fino a questo momento Ok Ok Va bene Vediamo Ma chi è questa signora Abbiamo risposto Ok Ok Here in Italy There is a theory That there are going to be Three Day Of night Like The light Completely Disappear Like electricity And everything Do you believe In such a theory And if you believe In so When This is going to be Do you know So this has been Predicted For approximately Two years Dear one By those Who make The predictions And what I know Is that there are Strong oppositional Forces We could say Dark and light Forces And they are Constantly In that sense Jousting With each other Making claims Throwing things Onto the Media Throwing things At each other Tricking each other Making predictions Making sure The predictions Do not happen Stop every now and then So he can translate Peace Yeah Jerome Let you translate Dear one Yeah Maybe Do that again But summarize it So there are There are Upon the earth Those puppets You can say The hands And the mouths And the eyes Of those Who are inside The light The cosmic beings The light beings And the very dark beings Who are in that sense Still trying to control The earth Because The earth Is the prize Is the jewel Ok Dice che La terra È il prezzo Il premio A cui arrivare Per cui ci sono Delle persone Nel nostro governo Che dicono Tutte queste cose In qualche modo Per inculterci Paura E altre invece Che cercano Invece Di equilibrare Questo E portarci Nella luce So going back To these Three Days Of darkness What do you think Is going to happen? Well some Say three days Some say ten days Some say two weeks And so That is what I mean These things Are thrown out Because It is actually The expression Of this This jousting This This attempt To take over The mind Of humanity And so Alcune persone Dice che ci saranno Tre giorni Altre dieci Altre due settimane E dice che Non necessariamente Questa cosa avverrà Proprio perché Nemmeno i governi O coloro Che ci governano Hanno deciso Se questa È la strada giusta Da intraprendere Per le persone Che vivono sulla terra So the most important Thing to understand Is if it creates fear It is likely Coming from the dark side Per cui La cosa più importante Da comprendere È se Questa Incute paura Allora sicuramente Viene dalla forza Negativa And when you think About it You know It's a frightening thought But really You will manage fine If there are three days Of darkness It will not be a problem Se questo è un problema Per voi Sappiate che sicuramente Tutte le persone Sulla terra Se ci fossero Tre giornate Di buio Tutti quanti Ci organizzeremo Per accettare questo So you just prepare yourself You have wonderful candles And you have all kinds of lighting And you have your batteries filled up And you just coast through it You do not allow yourself To get into terror Ok Voi non dovete mai 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 Permettere a voi stessi Di Entrare nel terrore Per cui se questo Dovesse arrivare Perché è lì che Le forze del buio Vogliono portarvi Invece Se dovessero arrivare Questi tre giorni di buio Comprate delle candele Rimanete in famiglia Siete Gioviali Ed evitate assolutamente Di farvi terrorizzare Gli esseri umani Sono pieni di risorse Dice che l'essere umano Ha tante risorse E siamo qui Per aiutarci Gli uni con gli altri E nessuno Assolutamente Ha bisogno Di spaventare l'altro O di spaventarci Per qualcosa Che invece Gli altri Vogliono spaventarci Per cui se voi guardate Indietro A questi Scorsi anni Hanno voluto In qualche modo Separarci Farci vivere Separati Gli uni dagli altri Senza capire Invece Che quello Che noi Siamo Siamo Vivere In comunità Ed aiutarci E supportarci Gli uni con gli altri Per cui non vi sentite Forzati Ad avere Un'attitudine Di paura Su nulla Perché dice Perché la paura Vi separa La paura Fa sì Che voi Quello che sentite Dentro Vi terrorizza Invece Vivere nella luce La luce È una comunità E invece L'amore Che è proprio L'opposto Porta Una grande Forza vitale Ma anche Una forza Divina In ogni Essere Umano Per cui quando la paura Prende il sopravvento Pensate di pensare Tra voi stessi Che cosa succede adesso E quindi Se voi Già La conoscete La evitate E non vi spaventate Per nulla La cosa più importante In questo momento È quello di Vivere nelle comunità Nelle famiglie Riparare le questioni familiari Piuttosto che Vivere in Separazione E solitudine E prendere Tutta la responsabilità Per questo argomento Per questo compito Perché è un grande compito So I don't know If I have completely Answered your question About the three days Of darkness It is a big subject Yes 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 You have Now there is An English question Which I would like To ask This one How does one Manage being A medium Mentally And physically And physically With great care And you have to train And you have to Understand The laws That govern The physical The emotional The mental The spiritual And the cosmic Bodies That though They align They are particular And separate And different Okay Okay I'm not Okay I'm not I'm not going to Translate Because the lady Who asked Was English All right You are English Dear one Yes She speaks English So she perhaps Will understand What you're saying So you understand That if you are a medium Or you have those Experiences Of other levels Of beings You have to know How to ground That experience And not be Drawn out of your body You have to stay In Awareness Obviously If you are a transmedium Like this one You must take your time To stretch your bodies To open your bodies To be able To hold the power And the presence Of an ascended being Or an angel Or other beings From other dimensions Okay thank you Sally We have another question From another viewer And she says How do we take The human To find Its own light The human Is born Of the divine There is no Separation You are An expression Of the divine In the human Body The task Is An expression Of the divine In the human In the human So you have to Non c'è bisogno Di riportare La luce Perché la luce Con la luce Tu nasci Once you understand That there is No separation That the divine Is here That it is About degrees Of light Quando sai E capisci Che non c'è Separazione Allora capisci Anche che tu sei Un essere di luce Della luce divina In a part Of your being You are Pure light And then this light Comes in And regenerates Your mind Your thoughts Your emotions Your body E quindi questa luce Rigenera il tuo corpo La luce Il tuo corpo La luce E tutto ciò E gli spiriti Alcune persone la chiamano Meditazione Io la chiamo Un'iniziazione Alla luce Perché così facendo Inizi il tuo corpo Ad avere maggiore Consapevolezza Dell'energia E questo è quello che mi piace Portare a tutti voi Una espansione Proprio per espandere Le vostre energie E far sì Che questa energia Circola dentro di noi Would you like Would you like To lead A little Meditation Perhaps Oh very much so Of course Would you like That now Yes Why not Allora ho chiesto A Chun Fu Se ci fa Fare una meditazione Guidata da lui Così da portare Questa consapevolezza Dentro di voi Dentro di noi Che dite Pensiamo di volerla Fare adesso Let me ask them And then we'll go through Ok Così mi riposto Cinque minuti Nella traduzione Quindi chiedevo a Chun Fu Se ci vuole condurre In una meditazione Per espandere La nostra mente La nostra mente Cioè va a Chun Fu If He will take us In a meditation In a deep meditation So that we can expand Our awareness And the light Within us And you are ready Yes Yes The road's saying Yes 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 Please Let's do so So I will Do it in small phrases So that you can Translate Dear one Please Thank you Please Feel your body Relax Let all the muscles In your body Relax Allora sentite il vostro corpo Rilassarsi Sentite i vostri muscoli Rilassarsi That your breath Become slow And feel How it is elongated Longer breaths In through the nose And out through the mouth Sentite come il vostro respiro Diventa allungato Respirate per il naso E respirate per la bocca E sentitelo allungarsi Sempre di più Elongate Allungate Inspirate per il naso Ed espirate per la bocca Because by allowing your breath to slow down It gives the command to your whole body to relax Perché il corpo dà al vostro corpo Il respiro dà al vostro corpo Il comando di rilassarsi Because you are taking your attention From the physical And from the mental Into your body of light Perché noi portiamo l'attenzione Dal corpo fisico Al corpo Di luce Così mentre noi ci rilassiamo Portate l'attenzione A quello che noi chiamiamo Uno stato di coscienza elevato I nostri sogni Il nostro terzo occhio E rimanete sì allerti Però una parte di voi Sembra che sta per addormentarsi È come se voi vi sedeste proprio sull'orlo del mondo spirituale Del mondo terreno Your light body Follows the command of your mind Il vostro corpo di luce Segue il comando della vostra mente Do not doubt that everything you command and think will happen Non dubitate che tutto ciò che voi comandate O dite Succederà Portate la vostra mente al primo chakra Osservate come ci sono dei canali Che attraverso le vostre gambe Vi portano sotto i piedi E poi nella terra Perché quando voi espandete il vostro corpo di luce Dovete radicarvi alla terra molto fortemente Il vostro corpo è fatto della sostanza della terra E come queste radici escono dalle vostre gambe Da vostri piedi Vi radicano fortemente alla terra Sentite come l'energia che la terra sta emanando adesso Dentro i vostri piedi Lo portate respirando al vostro primo chakra Breathing in the chi Of the mother earth Pulling it up into your body Into your base L'energia chi O dell'energia chi Della madre terra Dalla vostro chakra Dal primo chakra Su, su, su And in your mind's eye You command a big orb of red light To grow around your base chakra E nella vostra mente Ordinate che una grande sfera di luce rossa Si innalzi al vostro primo chakra And feel how you are sitting in the center of that red orb of light Sentite come siete seduti nel centro di questa luce rossa And expand it as far as your arms can reach big, big And goes down to your feet and up to your navel Ed espandete questa luce fino a dove i vostri braccia si allargano E sentite proprio questa luce rossa espandersi alla base della spina dorsale And feel free to move your body to feel comfortable because you are expanding E sentite, muovete il vostro corpo perché vi state comunque espandendo You do not have to be completely still You might want to just Just adjust your body to be able to feel that big red orb all around you Potete aggiustare il vostro corpo fino a quando sentite questa grande sfera di luce rossa Intorno a voi E sentite ancora questa energia dalla terra salire, salire, salire nella vostra ara E quindi nel secondo chakra e questo chakra è arancione Questa sfera di luce arancione grandissima Ed è come se voi adesso con il vostro espiro lasciaste andare questo grande pallone arancione And now I make a sound and where you are make a sound of these two centers Because the sound brings such a power into the light body Perché il suono porta grandissima energia al vostro corpo di luce As soon as you make the sound your whole system opens right up Mentre voi emettete questo suono il vostro sistema si apre Your throat chakra is the higher harmonic of your base chakra Il vostro chakra della gola è l'armonica della vostro secondo chakra E quindi si aprono in armonia con i chakra inferiori E quindi adesso nei vostri occhi visualizzate il vostro terzo chakra Che si apre sempre di più Sentite questa grandissima orba di luce di questo sole Che si apre al centro del vostro corpo E sentite il potere crescere come il vostro corpo di luce si espande E sentite il colore della vostra anima dentro di voi E sentite come il vostro cuore finalmente vuole aprirsi sempre di più Sentendo che voi siete amore Sentite gli angeli e tutti i beings, tutti gli esseri di luce che sono intorno a voi Sentite come se il vostro corpo, il vostro cuore stesse diventando un calice Per ricevere la luce E il vostro bellissimo cuore si sta espandendo Per ricevere tutta la bellissima natura Voi che portate l'amore e l'essenza sulla terra Sentite la natura meravigliosa che porta questo colore verde nel vostro cuore che si espande E cantate il mantra del cuore intorno a voi E il suono del cuore è spesso gentile e soffice Per la natura è parte di tutta la natura La natura armonizza tutto ciò intorno a voi Sentite i colori dell'arcobaleno dentro di voi Il verde del cuore, il giallo del chakra del plesso solare, l'arancione del chakra sacrale E il rosso del chakra della terra E voi siete adesso connessi alla terra mentre aprite i centri della testa Perché la vostra supercoscienza aspetta di entrare nel vostro corpo Sentite come in questa grande radiosità la vostra gola, il terzo occhio e la corona si aprono contemporaneamente insieme Sentitevi aperti a questa energia dei maestri ascesi, di tutti gli angeli e coloro che sono intorno a voi in questo momento E i colori sono blu, indaco e violetto Sentite la bellezza di tutto ciò che è intorno a voi e che voi potete seguire in questo momento chiaramente Sentite la vostra corona come un grande piatto davanti a voi, sopra di voi Ricevere un impulso forte nel vostro cervello The pure light into your pineal gland and your pituitary gland L'apertura della ghiandola pineale Lighting your eyes up from inside to see the spirit beings, to feel them around you Sentite come i vostri occhi si aprono dall'interno per sentire e scoprire gli esseri di luce intorno a voi Relax and receive their light and their presence Rilassatevi e sentite di ricevere la loro luce Know that your love is emanating and radiating to them Sentendo il vostro amore che emana e si espande verso di loro And as you breathe in, breathe in the golden light of divine presence into your heart and into your body Mentre respirate e inspirate profondamente l'energia dorata nel vostro corpo And feel yourself giving thanks for your life and this wonderful opportunity to bring God, goddess love upon the earth And know that in this moment this is the greatest service that you can give with your life Sapendo che questo al momento è il vostro servizio che potete dare alla terra And notice that everything is gently moving, the chakras, they turn, they spin You are an electrical being of light, spinning within the light And so you are also part of a great cosmic event here upon the earth connected to all light beings E siete un essere di luce che porta energia e luce ad altri esseri divini Feel the presence coming into you, into your mind, your heart and your body Sentite la presenza entrare nel vostro cuore, nel vostro corpo, in tutto il vostro essere Ci sono esseri stellari qui adesso Ci sono degli extraterrestri che vogliono parlare con voi, con noi E adesso li sentiamo parlare e vediamo che cosa ci portano Greetings to you, I am Kauran I come from Arcturus A saluti a voi, sono Kauran, vengo da Arcturus I have come forward for I know some of you Sono venuto qui perché conosco qualcuno di voi And you have been talking to me on the inside E avete parlato, alcuni di voi hanno parlato di con me, da dentro Sono qui per parlare della mente, sono un Arcturiano È importante avere chiarezza nella mente sulla Terra oggi Gli Arcturiani parlano con la purezza della mente Sapete che avete notato che sulla Terra ci sono messaggi che arrivano da questa parte e da quest'altra parte E non sapete da che parte voi andare Pensiamo che sulla Terra ci sono delle forze oscure che annebbiano la vostra mente appositamente Così vi portiamo alcune idee per la vostra mente affinché voi possiate comprenderle Lo sviluppo dell'essere del cervello umano è uno degli più grandi raggiungimenti E noi qui abbiamo tantissimi persone del mondo spirituale che vogliono assistervi a capire e comprendere quali sono gli insegnamenti per la purezza della mente C'è molto parlare sulla vostra terra dell'intelligenza virtuale I would say to you understand the great difference between that type of intelligence and the soul intelligence of which I speak Vi prego di pensare la differenza tra l'intelligenza virtuale e l'intelligenza della mente da cui vi sto parlando Possiamo usare la frase meccanica meccanica anche Questo può confondere la mente perché sembra molto potente Ma voi siete qui per sviluppare la mente divina Questa è la più alta tecnologia nel cosmo È un dono dal divino Ed è acquisibile solo attraverso l'amore E come sapete l'amore non arriva dall'intelligenza meccanica Per cui sapete che la saggezza del vostro cuore è la saggezza più importante che dovete apprendere Ed ecco perché esseri come me arrivano nel vostro mondo per assistervi in questo momento Per mantenervi forte nell'evoluzione della razza umana Per portare avanti l'evoluzione della mente del cuore Capisci che questa è una conversazione cruciale che stiamo avendo oggi con voi Sto portando avanti questo discorso perché questo è uno degli argomenti più importanti dei vostri tempi Per voi per non essere confusi Perché l'intelligenza artificiale sembra offrire a voi un potere maggiore Ma non ha l'anima Se non vi sentite presi in giro da questo potere Ovviamente potete usarlo sapendo bene che non è un'intelligenza guidata dalla vostra anima Tutto ciò che è nella creazione può essere portato a servizio del divino Ma il divino non può essere mai portato nella intelligenza artificiale Non si deve mai pensare che il divino è inferiore all'intelligenza artificiale Know that the divine love which is the instinct within your heart that are gathered here Please repeat that Is the soul and most powerful technology L'anima è la tecnologia più avanzata che esiste Sebbene potreste pensare che la mente artificiale è molto più avanzata Ma non è così Questa è la migliore equazione di tutto Sappiate che l'intelligenza artificiale non ha un'anima E non può essere considerata superiore a Dio E anche per i bambini è abbastanza pericolosa Se non hanno compreso il significato di ciò che io ho detto oggi Insegnate ai vostri bambini e ai vostri nipotini Che esiste solo l'intelligenza del divino amore E che l'intelligenza artificiale è fatta solo per raggiungere il potere Fatevi giocare con quello ma ricordatevi di non permettere all'intelligenza virtuale di giocare con i vostri bambini Cercate di ritornare sempre nel vostro cuore E di domandarvi E di domandarvi E di portare dentro di voi sempre l'unità divina Chiedete sempre nel vostro cuore la verità Portate la vostra mente al servizio del divino Grazie per ascoltarmi oggi Sono Kauran Grazie per ascoltarmi oggi Vi benedico Grazie a te Grazie a te Grazie a te Questo è Kauran di Vibration Arcturus Sì, abbiamo ascoltato qualche sonore anche. Lo amiamo il sonore. Sì, abbiamo ascoltato qualche sonore. Adesso abbiamo anche un abitante di Venere. Siamo qui insieme a tanti altri esseri venusiani. Voi vi portiamo amore. Ho qui tante sorelle. Veniamo verso di voi per portarvi le nostre benedizioni. Sappiamo che portiamo guarigione al vostro cuore. Lavoriamo con tanti di voi. Ecco perché siamo qui oggi. Sappiamo che c'è tanta pesantezza nel mondo in questo momento. E siamo qui appunto per portarvi leggerezza. Ricordatevi di alleggerire il vostro cuore. E ricordatevi che non siete sole in questo momento sulla Terra. Siamo qui perché voi ci avete chiesto di venire. Ascoltiamo i cuori. Noi siamo le divinità di venere. E lavoriamo insieme alle divinità della vostra Terra. Noi siamo uno insieme alle divinità della vostra Terra. Qui c'è Maria, Madre Maria. Lei è la vostra madre adorata. She tells me many things about the life upon the Earth. Mi dice tante cose sulla vita sulla Terra. She says to me many are suffering upon the Earth. Mi dice che tante persone stanno soffrendo sulla Terra. That this has been going on for a very long time. Che questo sta succedendo da veramente molto tempo. I have given my messages to the Mother Mary to bring to your hearts. Ho ricevuto un messaggio da Maria da portare nei vostri cuori. Perchè noi siamo oltre il tempo. Perché noi siamo oltre il tempo. We dwell beyond time. Noi vediamo oltre il tempo. We see the time, space. Noi vediamo lo spazio e il tempo. Beautiful souls know that all is changing upon the Earth. Le anime belle sanno che tutto sta cambiando sulla Terra. There are many, many of us bringing brilliant light to shine amongst you. Ci sono tanti, tanti di noi che portano la luce che possa brillare su di voi. It is to expose the darkness. È per esporre il buio. We know that sometimes this brings you fear. Sappiamo che spesso questo porta la paura. And so we bring you strength and wisdom. E portiamo forza e saggezza. Call me. I am Mimwanye. Chiamatemi, io sono Mea Mimwanyen. Sono la vostra Dea di Venere. We are the loving deities of Venus. Siamo le divinità di Venere. Nimwanye. Nimwanye. Anowa. Aloa. And Simwa. E Simwa. Siamo una divinità trina in un unico essere. We bless you. Vi benediciamo. Beautiful souls. Bellissime anime. E, we inside. E, we away. Lei. E, we lose white. We behave. E, we wave. E, we move. hello 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 I am Archon I am a Pleiadian being we are many upon the earth incarnated at this time and many of us are with you in the spirit world some of us are preparing to come in as babies we Pleiadians are very close to the human race many of you are Pleiadians you could say that when we come and go we bring the news and the information from one to another we come to earth to bring knowledge from Pleiades and we come back to Pleiades to bring knowledge from earth because we are very linked many of your families have Pleiadian beings born in them today because the earth beings are evolving fast at this time awakening awakening to their cosmic identity it is a wonderful time and yet also very demanding upon the earth remember to call to us when you go within into the worlds of light within your heart and mind think about us pensate sempre di chiedere a noi ogni volta che voi pensate di fare un viaggio nei Pleiadiani remember we are telepathic we know your thoughts ricordatevi che noi siamo telepatici e sappiamo i vostri pensieri listen well for we bring our thoughts into you when you call us ascoltateci quando noi vi chiamiamo and we bring you much understanding of your divine potential e vi portiamo abbastanza informazioni sulla vostra potenzialità divina and we give thanks for your invitation today that you could know me I am Archon and you can call me at any time e voi potete chiamarmi in qualsiasi momento io sono Archon che vengo dalle Pleiadi there are many questions if there are any questions I will answer them se ci sono delle domande per questo essere dalle Pleiadi potete io posso rispondere se volete the question does not they do not come straight away so we need to wait for them I have patience can I ask a question whilst they're waiting you may ask a question when the mental body is under pressure what would you say the fastest way to clear that pressure could be you must move the body you must move the body the mind must have channels of movement the system is made as one system it is never only mind mind is throughout the nervous system mind travels throughout the being therefore you must move the body and breathe and let the energy of the mind move through the body through movement through breath through sound for your work like this let me explain for the people Jerome ha chiesto che cosa fare quando mi sento il corpo bloccato o rigido in qualche modo come posso esprimere la mia luce o posso cominciare a canalizzare e questo essere dalle pleiadi ha detto che è importante muovere il corpo respirare muoverlo in qualche modo emettere un suono fare tutto ciò it is to understand that mind is not on its own mind is part of your spirit mind is creating constantly your bodily sensations your emotional feelings so mind is in that sense the translator of spirit into matter and matter back into spirit and when your thoughts are shall we say not enjoyable then it is time of course to change them transmute them allow them to flow to be more fluid this is the key now you can translate Jerome if you like so yeah otherwise for Gaetano what what Archon is saying is we move your body and to try to come out of your mind ok dice che bisogna uscire dal nostro corpo per lavorare con la nostra uscire dalla nostra mente per lavorare con il nostro corpo questa è la forma di guarigione che arriva dalle pleiadi and to let your higher self in e per permettere al vostra supercoscienza di entrare like like earlier when we made the high sound with the high sound your body is elemental it is of water and of air and of earth and of fire so use all the elements to help your body to flow to dissolve to move matter for you are not made of stone but rather of the flowing of energy dice che è importante far muovere i nostri corpi non possiamo i nostri corpi non sono fatti di pietra li dobbiamo muovere dobbiamo mettere dei suoni per permettere a questo flusso di energia venire entrare dentro di noi e ripulire anche tutti i nostri pori i nostri organi tutto ciò di cui dobbiamo disfarci per avere sempre e costantemente un corpo pulito purificato e di luce ci sono diversi livelli di mente la mente che diventa intrappolata nelle nostre emozioni questa è la mente più bassa è importante portare il fluire delle menti per fare in modo che tutte le menti possano girare dentro di noi vedo qui degli esseri che sono del regno dei cristalli per esempio ognuno di questo c'ha un corpo cristallizzato per cui mantenere uno di questi cristalli e lavorarci porta dalla supercoscienza queste energie con cui noi vogliamo lavorare molto spesso è difficile per voi capire come l'energia scorre attraverso i cristalli e il vostro corpo invece lo capisce voi non avete bisogno di altro bisogna solamente mantenerli e questa luce attraversa il vostro corpo fisico avete bisogno di tutti gli strumenti che sono possibili da usare in questo momento nel vostro mondo per energizzare il vostro corpo fisico perché l'energia sta arrivando dalla forza divina e sta attraversandoci in qualsiasi altra area del nostro corpo deve attraversare la mente il corpo l'anima e dobbiamo risvegliare la memoria di chi voi siete letteralmente dentro è perché avete bisogno dell'evoluzione della vostra anima per capire di che genere di esseri in quale genere di esseri ci stiamo trasformando Akon è bello di ascoltare ma dobbiamo finire la nostra session di una broadcast perché solo abbiamo 5 minuti da andare prima la prossima viene è stato un grande piacere io andrò io grazie tutti grazie per invitarmi oggi fare bene piacere essere qui e parlare con voi ho detto che dobbiamo terminare perché il tempo stringe abbiamo ancora solo 6 minuti sebbene l'energia è stata veramente forte dobbiamo e vorrei assolutamente salutare Sally che sta per uscire dal trans e così che la salutiamo la ringraziamo con queste due ore di canalizzazioni meravigliose in the meantime Jerome se tu piacere mi posso scrivere e posso dire qualcosa qui sì mi posso cercare la link qui posso share la link su Messenger sì can't write it ok do so sì I sent you the link here because it's not an easy link so allora loro il 17 giugno conducono mi ha detto prima selli una meditazione sulla pace nel mondo e quindi se volete se volete potete è una cosa gratuita che fanno il 17 giugno alle nove e mezza in Italia so this brand new masterclass is called the black gold shungite masterclass and it's all about tapping in to the power of shungite and even if you don't have any you can still tap into it so there's the link there where did you send it in in the chat here with you now live I can't see it comments I just shared it with you maybe on messenger then so you can share it private chat chat with anyone in the studio no that's the private chat it does not do anything with us hold on okay so how do I perhaps I can do it here hold on here we go I've sent it to you on messenger from sally here it is this one okay there is on a master class que jerome fará con sally when is this this is next this coming wednesday okay yeah so yeah but then sally also told me that you have something on a global peace meditation on june 17 right yes and this is chung fu ascending master chung fu live call happening very soon and they're very close together so our master class all about shung gait and sacred sound how to work with the sound the crystal of the shung gait with chakras a little bit like today we open all the chakras and we're going to have a beautiful transmission a secret transmission bonus transmission on there so yeah we'll be excited to see you on there for the english speaking italians which are not very many but and now let me say goodbye to Sally because the time is really gone peace beloved it is chong fu here chong fu hello and i would like to give the final blessing i will make it short dear one ok thank you allora chung fu ci fa l'ultima benedizione poi ci lascia andare siamo state due ore meravigliose e quindi abbiamo solamente quattro minuti prima della prossima diretta diamo benedizione a tutti gli esseri di luce che sono stati qui oggi con noi e come noi andiamo avanti nella nostra vita possa l'essere di luce che è dentro ognuno di noi possa entrare nella vostra vita di tutti i giorni e rialzare e inalzare la vostra mente in pensieri positivi una percezione chiara rinforzare il vostro cuore e avere una connessione dell'anima molto profonda portando intorno agli esseri di luce intorno a voi amore compassione e misericordia portando nel vostro corpo una buona salute e rafforzandolo sempre di più che che possiate comprendere e portare nella vostra vita una grande gioia portando a voi abbondanza e prosperità e grande conoscenza che c'è oltre la mente blessings and peace to you all benedizioni e pace a voi tutti farewell arrivederci e a presto thank you chong foo thank you so much peace pilar Prima che finisce la diretta. Grazie a tutti voi per averci seguiti. Sono state due ore meravigliose, molto stancanti per una che traduce simultaneamente, ma sono sicuro che ne è valsa la pena per riepire i vostri cuori di amore, di gioia e di serenità. I'm afraid Sally's not really able to speak right now. Ok, allora la salutiamo perché Sandy non è in grado di parlare. He says bye bye. Yes, ci saluta. Grazie, thank you. Bye bye. Bye bye. Bye, ciao. Grazie a tutti voi e alla prossima. A più tardi con Roy Martina alle 21.30. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.